Ciao, sono Giorgio Candini, rappresento F1 Solidarietà, un'associazione sportiva di dipendenti Ferrari. Le nostre attività sono tutte rivolte alla solidarietà. Quando Daniela ci ha invitato a partecipare alla nota dei respiri, siamo stati ben felici di accettare questo invito. Perciò vi aspettiamo tutti al campo sportivo di Forlì e in Piazza Safi per tutte le attività di contorno che verranno realizzate. Ciao, a presto a tutti.